Bella a tutti, qui è Triface che vi parla e oggi voglio parlare con voi di come effettivamente ho ottenuto il livello 100 o meglio il metodo che ho utilizzato. Voglio fare questo video perché è normale vedere altri streamer che si organizzano per cercare di fare fast run e cercare di raggiungere il livello 100 in uno o due giorni. Ma non è questo il nostro caso, motivo per il quale se ci ritroviamo come me o come voi, in questo caso dovremmo cercare di ottenere un gruppo di player che non siano sempre i soliti amici. Come sappiamo per via di alcuni aggiornamenti che ci sono stati all'interno del gioco, fare gruppo e cercare di farlo all'interno delle Nightmare ci permetterà di ottenere un quantitativo di esperienza maggiore. Proprio per questo motivo oggi voglio vedere con voi come cercare di generare un gruppo all'interno di Diablo 4, soprattutto per quello che avverrà grazie al nuovo gioco che uscirà free to play. Path of Exile 2 sarà il gioco che purtroppo toglierà molti player da Diablo 4, almeno perché la maggior parte dei player già conoscevano questo gioco e aspettavano la sua uscita. Per questo motivo oggi vediamo insieme quello che ho usato io per cercare di expare in una settimana a livello 100. Il modo migliore per generare gruppo all'interno di Diablo 4 è utilizzare il Discord. Mi dispiace siamo nel 2023, mi rendo conto che alcune persone vorrebbero farlo in un altro modo attraverso il Dungeon Finder che esisteva in altri MMORPG ma in questo caso Diablo non lo permette. Motivo per il quale dobbiamo cercare un secondo modo ed è proprio Discord. Per poterci unire a questo Discord semplicemente clicchiamo il più, facciamo unisciti a un server, non abbiamo il link del server quindi facciamo non hai un invito e qua dentro scriviamo Sanctuary. In questo modo dovremo poter trovare il Discord di riferimento che è questo qui. Mi raccomando è questo qui. Una volta all'interno del Discord ci si presenterà più o meno in questo modo ma non è detto quindi mi raccomando andate nella sezione canali e ruoli e cercate più o meno di piccare tutto così da poter vedere tutti i canali testo all'interno del Discord perché sono davvero essenziali per fare quello che ci serve. Fatto tutto questo semplicemente dovremo cominciare a capire come funziona. Vedete che qua c'è scritto LFG. LLFG in tutti i giochi esisteva come Looking for Group come la quota per i dungeon. In questo caso diventerà un canale di testo quindi qua la maggior parte delle persone scriveranno Looking for Group ossia cerco il gruppo. Mi raccomando perché tutto questo è in inglese. Non starò ad insegnarvi l'inglese ma vi insegnerò esattamente le parole che vi servono per cercare di creare i gruppi per quello che vi serve. In questo caso troveremo il Looking for Group per la campagna quindi player che hanno appena iniziato. Troveremo il Looking for Group per il mondo 2 perché VT2 vuol dire World 2 ossia mondo 2. VT3 è World 3 dungeon. VT4 è World 4 dungeon. Quello che però ci interessa soprattutto per espare maggiormente dal livello 50 in poi ossia dal 50 al 100 in meno tempo possibile lo si può fare anche in soli due giorni. L'importante è utilizzare il SC Looking for Group Nightmare NM perché NM sta per Nightmare ossia le modalità incubo del gioco. Le Nightmare non sono altri che i sigilli ed in questo caso quindi semplicemente dovremmo andare all'interno della chat. Scrolliamo tutto in basso e vediamo che possiamo cominciare a scrivere quello che ci serve. L'unica cosa è che all'inizio non ve lo permetterà per cui vi insegnerò come darvi i permessi per poter scrivere all'interno di questa chat. Nei vari canali testo possiamo andare tutto sopra e vediamo Guida del server. In questo caso ci permetterà di capire come usare il tutto. Quello che ci serve in questo caso è Looking for Group perché all'interno noi possiamo trovare 450.000 persone in ricerca di un gruppo solamente che noi non lo sappiamo perché Diablo non ci permette di saperlo. In questo caso però vi ricordo che all'interno dei ruoli dovremo poter selezionare il Softcore Season 1 se giochiamo nella Season 1 ma non Hardcore. Invece Hardcore Season 1 è se giochiamo Hardcore in Season 1. Questo ci permetterà di vedere gli altri canali testo soprattutto del Looking for Group e degli altri player. Prima di fare tutto questo però dobbiamo collegare Battle.net con Discord altrimenti non ci permetteranno di scrivere. Quindi andiamo nelle impostazioni, andiamo su Collegamenti, all'interno dei collegamenti qua vediamo una sfilza di social che possiamo collegare ma quello che ci interessa è cliccare la freccia e cliccare il Battle.net. Una volta fatto questo vi riporterà all'interno del sito e semplicemente clicchiamo OK e vedremo che il Discord con Battle.net si sono collegati. Andrò nel Discord e quindi scriverò all'interno di Heroic LFG Nightmare Dungeon perché è lì che noi dobbiamo scrivere il tutto. Scriverò LF3M sarebbe a indicare 3 persone, invece se scrivo 2M ovviamente 2 persone. Quindi in questo caso 3, motivo per il quale magari la gente è più invogliata a gioinarmi subito. Quindi LF3M, invece se io voglio cercare un gruppo, quindi io voglio cercare un Sarat Layer, in questo caso sarebbe LFG cioè Looking for Group. Io cerco un gruppo dove gioinare. In questo caso però il nostro obiettivo sarà quello di creare il gruppo e cercare di farci gioinare perché non è detto che noi riusciamo ad entrare di là. Anche perché ci potrebbero comunque chiccare, invece se siamo noi il leader in questo caso saremo noi a chiccare gli altri e non viceversa. In questo caso quindi scriviamo LF3M, NM perché siamo in Nightmare, la Nightmare è di Sarat, quindi NM sta per il fatto che stiamo usando un sigillo. Sarat è il dungeon che ci interessa quindi dovete sempre scrivere il nome. E un Sarat è livello 42. Io di norma qua specifico anche il livello richiesto perché tendenzialmente mi gioinano dei livellini che vogliono solo expare. Invece serve che tutti quanti siamo allo stesso livello e pushiamo tutti insieme perché io per fare il 100 ho avuto persone bene o male che potessero shottare anche loro. Anche se ovviamente poi carriavo io, però non è questa la situazione. Voi per livellare prima dovete avere tutto un party buono e cercare di pushare e resettare ogni minuto. Come esempio voglio riportarvi il mio video di 12 ore di stream di Twitch dove effettivamente non faccio altro che tenere la stessa chiave di Sarat livello 42, mettere il messaggio e postarlo continuamente sul Discord con la gente che non fa altro che entrare ed uscire. Quindi in 12 ore ho raggiunto il livello 98, nel giorno seguente ovviamente ho fatto il 100. Questo era solo per farvi capire che c'è la possibilità di fare gruppo, c'è la possibilità di crescere subito, soprattutto quando i player cominceranno a calare all'interno del server. Io con questo ho terminato, mi raccomando se vi servono consigli o altro trovate tutti i link sotto in descrizione e ovviamente metterò anche quelli inerenti a tutto quello che ci siamo detti fino a poco fa. Con questo vi ringrazio sempre dalla visione e ciao a tutti.